benedici e così non mi ha abituato Padre, Giorno, Spirito, Santo ormai io penso che ho benedicito signori e se ci sia rosa mandaci la benedizione e se tu dici che è andata a chiaro che quando è andata a chiaro non ci sia l'occhio andiamo con... facciamo un... 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 allora lo stiamo stari facciamo un sacco facciamo un sacco ci siamo... no, non facciamo un sacco facciamo un sacco uno sacco, si este... ci siamo più... che sto via corto con te l'anni e tu la unico lungo io ho questo che ero tagliato per me lo taglio e me lo tornavo a fare che faccio e voi i guanti non c'è fai la porica da un lato tu la c'ho grande allora spiegatemi un procedimento allora questo calzamento allora spiegate che c'è l'essia c'è l'acqua e acqua cauda e c'è l'acqua e c'è l'acqua e c'è l'acqua poi si prendono un lato e c'è l'acqua e poi si prendono un lato e c'è l'acqua secondo l'olio quando andai se andai da 20 litri l'olio abbiamo in mente due c'è l'acqua e quattro d'acqua due c'è l'acqua e c'è l'acqua e quattro d'acqua chiara e da mentre c'è l'acqua poi ci prendono 2-3 kg di medicina la medicina viene a cosa come si chiama? a sodia a soda a soda a soda causa a soda e mettiamo che le dà poi il gugi è maniando con questo qua sempre maniando quando poi cominci a gugiare tu ci vuole più di una ora il gugi sempre maniando quando vieni con il bastone manià manià si incrosca qua si attacca qua cominciò che è buono allora manià quando in questo momento così dritto così dritto no? fino a sotto se io stavo dritto che non c'è bocca senza gugiare ma mi gugiare da una ora e poi è buono poi c'è un liscio bello bello con un po' di acqua fresca e poi mi viene bello liscio e lo coppio la mattina quando viene buono io è indurato ma poi mi dà se per me sarà fredda bello bello e poi un po' di acqua e poi un po' di acqua e che cortero che hai io qua ah questo è di un'altra maniera ah di un'altra maniera ah di un'altra maniera vediamo qui se è un po' di pace questo è un po' di figlio ma l'uomo si si questo è un po' di un altro corte vediamo perché una una rosa è rosa e come io che sa mo' di mo che stai facendo io come c'è l'opportunità ma ma questo covid non vi dite è nudo si muove non si può fare niente però come un deliberame non vi preoccupate che facciamo fare i belli servizi che ha televisione ah facciamo fare una cosa c'è l'idea tanto che i grutti che i grutti ne vengono sempre ci vuole una bella forza non è che una cosa faccio lo faccio sapunicato non è che c'è un pezzo poi un dettaglio è facile sì non c'è un po' di dare 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 e vediamo ecco scusate ma che sta succedendo spiegatemi non c'è un po' di dare come un po' di dare per me potete tagliare l'altro sì sì se no no può tagliare sì perché praticamente usa sapone solo questo strato che c'è di suba giusto sì però è fondo sì vediamo qua eh ma non ti fai che fondo sei o ci sto fai come se ti fai tosto se no da siamo stari ma tu lo fai in quanto ci ranno non vai non ti fai come questi ah come questi ah sì come questi mi fai tosto come lo taglio come lo taglio e come l'hai in spagna non mi fai no senti aspetta che ti metterò in busta ti metterò in busta aspetta ma però il fondo non sarà sai no ecco questa no vai a prendere un busto e entra che io l'aveva portato che si appogia se no una settimana si rovinia non ti fai come se un libro che ci vuole tempo tempo ci vuole lavoro ci vuole sordi ci vuole tutto per me lo fai io spendo 35 euro non so ma non mi fai però vi dura è abbastanza sì la medicina dura pur che tra odio e tra medicina però ci vuole 100 euro si però quanto tempo vi dura questo qua questo dura se tu che fai non mi fai qua se non mi fai qua la cosa ci struzione no qua facciamo in modo non si perdono tutte queste cose che un domani nessuno lo sa fare non ci arriva ma tu qua non avevo una cosa ma usa la mera gli metto gli metto aspettiamo poi a me sta portiere che sono come tali mi ha visto stamattina che non posso non mi fai 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 che fai che fai non mi fai non mi fai non mi fai prima non mi fai ma non mi fai ma tu ti partirei ora così adesso vieni l'allergia e si non mi fai non mi fai non mi fai se non mi fai questo qua non mi fai non mi fai vuoi non mi fai è divina se non mi fai non mi fai non è che uno lo sa o che non lo sa si si certo vuoi questo qua per me noi tutti tu perché tu vabbè tanto voi facete il dosaggio giusto si non è che facete ammuzzo no no non è molto pesato molto maturato tutto non faccio un altro qua ma tu cosa è nata qua per la sua per la sua ah no e non era che tu stai calata chi sta qua voi ah voi va a vedere qua c'è come pungi pungi mi cattava in guanti laio mi sorda ma noi siamo d'olita lì ti 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 perché tu ti 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 si ti da di tutta se vogliono facendo artiera e si si arti resta dura qualsiasi no facciamo un'altra ora no e si tritta e vi che sento calmo questo cosi lo tagge non lo tagge se non lo tagge cosi come no 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 tagge a strifo cala lo cocello e no vedi ma non ti perca con il gioco e mangiare la roba è andata via il materiale per mangiare la roba è andata via vieni la roba ecco ora si è muovito ora ora fa lì qua poi facciamo pure poi tagliate pochette tagliate la stritta tu dici che sto facendo meglio facciamo no che dopo non tagge e dopo si muove chi sto ma come balla si muove e non lo faccio ma voi che siete esperti e è meglio che sto facendo così una per mouselava o è meglio che lo faccio in freddo no 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 che da freddo non perchè non ci guarda no io non volo ma no no io che non è freddo non andiamo a tomare in mano no manco io non lo so che si usa non lo fa lo fanno freddo senza l'alissia io me lavo cucchia da freddo ah cucchia? eh si perchè mudezzaro ma è fatto che da freddo come lo faccio Giulia? come lo faccio Giulia? la mia volta ne facevamo 4-5 l'antuna io sapevo quando avevo la famiglia ma pure quando c'era nonna mia mamma mia lo faccio faccio i nuiti la nonna mia è basso si 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 aspetta che mi vai a prendere una cosa in un momento sopra l'andone è buono l'andone no non vuole una plastica una pezza aspetta 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 ma io a rosa non ci ricomando regalano pezziceto oggi me lavo cucchia hai chiesto che hai un'altra cosa a casa lì? eh si è abbastanza lavorato che da freddo è più semplice io non è lavorato non è goduto eh infatti avete come imparavo la mamma vostra? ma mamma non ne sapesse così no? e come imparavo? eh facevamo la casa della mia dopo che è andata a me quindi dopo che... a me una certa volta sa che facevamo la Catarina c'era Angiolina lo facevamo noi Nivi e Angiolina e poi lo facevamo vennevi via vennevi via vennevi via voi imparastevo praticamente dopo che vi amarratastevo? si capriamo cosa io ero ieri c'è stato anno mi amarratato io vieni fuistevo sapone vieni fuistevo io noi 4 eramo tutti i 4 figli ma non ci viste ma perché vieni fuistevo perché non volevi i genitori vostri? manco vi ricordate perché vieni fuistevo? eh? manco vi ricordate perché sapete perché no mio marito era zitto non c'era nulla non c'era nulla via che non voleva venne venne fuistevo non è caro ma no come vi ricordate non è caro scusate ma suo marito vostro suo marito vostro suo marito vostro era zitto per fare so voi per chi? no no non ci ho già io non lo faccio e poi dopo non lo faccio avanti il settembre e poi a Natale mi mandavano quando mi mandavano che ambasciatura eh sì che ambasciatura infatti non ci diceva no ma perché aveva stato uzzito dalla cugina vostra la socia mia ha detto mi forzato a venire eh e molto perché io so che non ci vengono e c'era cosa che mi cerca ah no arrivò l'aiuto ha arrivato la sorella hai arrivato la sorella non esce ah è una vera rosa ancora ah non è che vengono ma io perciò che non ci vengono aspetta 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 guardavo Ma tu pigi qua, c'è io l'usì da, n'è? Eh sì, se non ti ammazzi Emo è indivinuto tutti i due E che non è tagliato in naso Ah, che ti dici io? Ma che ti dici io? Ma che fatti? E non ti fanno canciare questa cosa Dice Luca, sono buoni No, allora non te lo doi mani Da, ti dico io Era me ti tagliamo sto pezzo Se non ha fomentato la mani Ma come ti? È caldo È caldo È caldo E pedi, sta pezzi Non ti stappi Non ti stappi Meno ci stappi C'è il tuo cuore Grazie a le sia Grazie a tutti È caldo È caldo Non lo so come si sta facendo Questo domani voglio E' un'ora adesso io Perché ti armiamo o cacciati? Dove ci sono andori Ora siamo ieri E' bene, è buono E' usaci io Armavete o cacciati? E' buono E' da sotto la volopina E' da sotto la volopina Perché dicevo che è buono Che significa scusate che ha volopina? Questo per ricetta Chiamano volopina Vedi che è buono Ah quando è così è buono Aspetta, aspetta E' almeno così No, io le mani mi faccio E vedete quanto cosa mi imparai oggi? Ah Con volopina si è sempre visto E quando avevo volopina Saffone è buono Ma mia mamma brucia Ma io non ti so mai io Ma mia mamma brucia Ma mia mamma brucia E quanto cosa non sappiamo? Ma è la vostra 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 Quindi ricapitolando se faccio questo sapone quanto aggiungi i voci? 30 litri d'oggio? 30 litri d'oggio e quanti di medicina? 12 di soda e ducati ilizia Ducati ilizia 2 avete immobiliati guardate com'è dentro si che sto andando e poi diventa buono 10 litri d'oggi 10 litri d'oggi 12 litri di specie questo forse voglia rassato un altro giorno che dicevi domani domani voglia cacciato no quindi ma ancora che stucano potete tagliare no no ci vuole domani per me tagliati questo non ci vuole domani per me tagliati questo è tutto questa notte in duri questo si questo si allora apposta si stappava forse ancora un po' meno era troppo caldo si era troppo caldo e si stappava perché ancora l'ho che aveva matura buono e si poi diventa tutto bello compatto è già compatto arrivati ora si stappava a serra che dici ora vengo ora si stanno in orno non è all'interno ora si tolta la tempiglia e ora puoi lavare Aspettate, spiegatemi che faccio con l'acqua, con l'alessia. Con l'alessia è stata pura. Ah, con l'alessia che vuoi conservare. Ma con l'alessia non mi sembra che mi fanno lì una settimana. Allora, con l'alessia quanto ti faccio? No, io mi chiedo. Ma questa è già pronta? Non avete mentito? No, non lo comenta. No, no, con l'alessia è già pronta. Questa si. Questa io faccio. Ogni 5 litri d'olio. Mentre una è questa e una d'acqua. E tre quarti di medicina. Cinque quarti. Cinque quarti. Praticamente ogni volta che facci i saponi, l'alessia ha stipati e sempre chieda? Sì, sì. Perché l'alessia come si fa? Dicite meglio. L'alessia ci vuole cennari. Cennari del camionetto? Cennari della cucina? Cennari acqua e cauccio. E cauccio? No, è la prima volta che si faccia. Poi invece ogni volta si ricicla. Ma non si fa. Io non ho malevo perché io non l'abbiamo. Ma levo. E con questo cavo hai fatto un'altra volta il sapone? Sì, sì. A posto. Benissimo. E il sapone è fatto. Grazie.